Una città che cambia volto. È stato presentato dal sindaco di Fano Massimo Seri e dall'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori l'intervento di rigenerazione dell'intera piazza Andrea Costa o comunemente chiamata piazza delle erbe nei pressi del mercato del pesce cittadino. Ed ecco come diventerà questo luogo. Questa volta verrà dato un occhio di riguardo all'abbattimento delle barriere architettoniche, ai servizi e alla fruibilità dell'intera piazza. Bella, luminosa e accessibile a tutti così l'ha definita l'assessore Brunori che ha annunciato la partenza dei lavori dall'8 di gennaio. Una piazza di una nuova pavimentazione in arenaria che dialogherà con tutto il resto del centro storico quindi sia con via Arco d'Augusto ma anche con via Montevecchio con l'abbattimento delle barriere architettoniche che vedrà questa pavimentazione in armonia e sicuramente anche collegata al discorso sia delle attività degli esercenti ma anche della piazza dove si vende appunto oggi il pesce e anche una nuova illuminazione scenografica che sarà sia sulla parte a terra ma anche radente sulle facciate degli edifici della pescheria e nello stesso tempo della Pinacoteca San Domenico proprio perché quel lancio di luce illuminerà veramente un nuovo luogo tutto da vivere. Un intervento che partirà con cinque sezioni di lavoro quindi ogni volta andremo a lavorare su un'area cercando di preservare quella che sono l'attività oggi dei parcheggi e nello stesso tempo degli ambulanti e verrà la sua fine per il tempo di giugno 2024. L'intervento dal costo di un milione e 400 mila euro prevede anche la riqualificazione del mercato ittico. Piazza importante nel centro della nostra città, una piazza che ospita il mercato ittico, ospita il mercato dei prodotti della nostra terra e quindi veramente una piazza e anche luogo di incontro. La nostra obiettiva è stato in questi anni quello di fare interventi che rendessero Fano veramente bella. Io ho sempre detto Fano diventerà la città più bella delle Marche e oggi a distanza di anni sono consapevoli di aver detto una cosa vera. Ci sarà una risistemazione importante del mercato ittico che abbiamo visto che troppe volte era una situazione di degrado quindi verrà fatta una nuova pavimentazione poi di notte quando non c'è nessuno verrà anche chiuso quindi ci sarà un'attenzione anche sotto questo aspetto. Quindi lasciatemi dire con questa nuova realizzazione veramente Fano diventerà una città fortemente attraente e lo stiamo toccando con mano. Il 2023 ha visto un incremento significativo di nuove persone che sono arrivate a visitare la nostra città e quindi inaugureremo il nuovo anno con una nuova luce e con la piazza Andrea Costa che si unirà con piazza Marcolino e il nuovo splendore.